Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Provenendo da Firenze e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia traffico bloccato per un incidente avvenuto circa 2 km e 700 metri prima di Cecina Centro in direzione Nord. Rallentamenti in entrambe le direzioni per incendio tra Fonte Blanda e Alberese. Per i lavori alla linea 2 della tramvia dalle 21 di domani per realizzare la curva in uscita da via Guido Monaco si allargerà il cantiere in Viale Belfiore. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!